La mostra si intitola Opera, quanto è una parola internazionale che in realtà racconta l'opera lirica che appunto nasce in Italia, ma poi si è sviluppata ed espressa in tutto il mondo. Per questa prima parte di mostra ho scelto sei opere liriche di Verdi, Puccini, Donizetti e Bellini. A livello pittorico il mio approccio è molto istintivo, nel senso che mi piace studiare l'argomento, mi piace cercare i modelli, le modelle, però dal momento in cui mi trovo di fronte alla tela a quel punto voglio un po' dimenticare tutto e muovermi in maniera molto istintiva. A livello pittorico il mio approccio è un po' dimenticare tutto e muovermi in maniera a livello pittorico il mio approccio è un po' dimenticare tutto e muovermi in maniera